Buongiorno a tutti, ben ritrovati sulle 12.30 in questo istante in diretta qui su Milano News con una nuova puntata di Good Morning Milano, oggi mercoledì 27, parliamo di un'associazione lo vedete già nel titolo sopra di me, stiamo parlando di Save the Children, un'associazione che a Milano opera e che in questo momento ha importanti comunicazioni da farci, direi così. Buongiorno a Federica Testori di Save the Children, grazie mille Federica di essere qui con noi oggi. Federica, tu in Save the Children di cosa ti occupi, giusto per capire? Io in Save the Children coordino tutta la rete del volontariato. Ok, poi parleremo anche appunto bene di come si può aiutare oltre che donando, sapendo insomma, ma anche donando proprio tempo si può, facendo volontario o Save the Children. Ricordiamo prima un po' cos'è Save the Children, un anno importante. Eh sì, è proprio un anno importante, Save the Children è la più grande organizzazione internazionale, indipendente, è nata cento anni fa nel 1919 ed è un'organizzazione che nasce proprio per tutelare i bambini a rischio e garantire per loro un futuro. Cento anni fa la nostra fondatrice, uscendo dalla prima guerra mondiale, è un'organizzazione inglese, si rese conto che ogni guerra è una guerra contro i bambini e che non esistono i bambini dei nemici, i figli dei nemici, tutti i bambini devono essere tutelati e oggi è un po' anche per questo che sono venuta da voi. E come lo fa Save the Children? Come cerca appunto di tutelare tutti questi bambini? Un numero impressionante di bambini in questo momento vive in una situazione di conflitto. Sì, parliamo di circa 420 milioni di bambini nel mondo che vivono in situazioni di conflitto. Save the Children opera in tanti paesi avendo cento anni, data moltissimi anni. Oggi, cioè proprio ieri c'è stato l'anniversario della guerra in Yemen e per farti un esempio in Yemen noi operiamo dal 1963, quindi ci sono progetti che forse vanno al di là ovviamente dei contesti di guerra ma che supportano poi tutta una serie di bisogni e di sviluppo locale. Poi spesso che è importante, nell'emergenza arrivare è, ma poi lasciare il voto dopo è sempre più pericoloso. Assolutamente. Giustamente su Save the Children questo invece lo fa. Ieri appunto 4 anni, diciamo questo triste compleanno della guerra in Yemen con altrettante triste notizia proprio che riguarda a voi di Save the Children. Sì esattamente, purtroppo è notizia di queste ore che proprio ieri verso le 9.30 del mattino è stato bombardato un ospedale nel nord-ovest del paese, proprio lì dove operiamo. È un ospedale che Save the Children sostiene, ovviamente cercando appunto di finanziare tutte le spese dell'ospedale e lo staff presente. è notizia che hanno perso la vita 7 persone di cui 4 bambini e questi 4 bambini si vanno probabilmente a sommare a quelli che dall'inizio del conflitto ogni mese perdono la vita. Noi stiamo parlando di 37 bambini al mese. Adesso a me non piace tanto fare i calcoli, non sono brevissima in matematica, però forse è molto semplice, è un bambino al giorno. Sì, lo dico peggio in questi giorni, un autobus che va sulla Paulese, visto che in questi giorni si parlava molto di questo autobus che con questi 40 bambini credo a bordo appunto era stato dirottato, è come se tutti i mesi avessimo la brutta notizia di quell'autobus. Esattamente. Il visto che era molto fresco e l'immaginario della gente forse può essere compreso. È un fenomeno davvero interessante anche perché spesso e volentieri inascoltato. Sì, inascoltato e appunto… Inascoltato quasi a volte. Assolutamente, hai ragione, stai parlando con delle parole giuste che avrei forse ripetuto. E questo forse ci fa rendere conto ancora di più quanto ogni guerra veramente alla fine sia una guerra contro i bambini, perché da sempre di più ovviamente la popolazione civile in tutte queste guerre è sempre più coinvolta direttamente ma anche indirettamente. Una guerra porta alla chiusura di porti, porta carestia, porta come sta succedendo purtroppo sempre in Yemen, ma anche in altre parti del mondo, ma sempre in Yemen a infezioni sanitarie, infezioni di colera per esempio, è notizia che mille bambini più o meno, c'è una stima per cui mille bambini al giorno rischiano di essere infettati da questa epidemia di colera. Quindi le cause indirette di una guerra forse sono comunque devastanti perché si protraggono poi nel tempo. Viene a dire anche portano migliaia di persone a lasciare il posto in cui vivono e spostarsi. Assolutamente, assolutamente. Di cui molti bambini, di cui molti non possono invece avere questa fortuna e quindi molti invece non riescono a spostarsi e quindi anche ricordiamoci questo, diciamo ma vediamo gente che arriva che sembra che stia bene, che sembra che sia ricca, attenzione, nel senso che magari stava anche bene ed era ricca, ma ahimè il suo paese non esiste più o meglio è un gruviera fatto di bombe, è un paese dove si vada all'ospedale e rischia appunto di rimanere sotto le baci. Esatto, non esiste più un posto sicuro, non esiste una scuola che dovrebbe essere quella che anche i nostri bambini hanno come posto sicuro, non esiste le proprie case, non esiste appunto un ospedale dove ad oggi ci sono circa, in questo ospedale ci sono circa 5.000 persone che siano bambini o adulti che stanno combattendo contro la vita perché stiamo verificando quanti danni sono stati fatti ma non solo alla struttura ma anche alle strutture sanitarie, alle macchinari in qualche modo e quindi non esistendo più un posto sicuro questo come dici tu diventa devastante. E' molto interessante perché appunto spesso gli interi posti dicono ma perché bisogna andare a vedere le cose che succedono a migliaia di chilometri da casa nostra quando appunto i problemi ce li abbiamo qui, beh forse andando a vedere proprio cosa succede a migliaia di chilometri da casa nostra potremmo avere meno problemi a casa nostra poi mi verrebbe che si hai ragione, diciamo che ogni contesto ha la sua problematica e il suo bisogno e diritto sacrosanto di proteggere nel nostro caso l'infanzia e di garantirle un futuro, questo penso che sia quello che possono avere a cuore tantissime persone ed è la missione per cui ci battiamo. Insomma con 420 milioni appunto di bambini che dicevi prima che vivono in situazioni di conflitto nel mondo è un numero davvero grosso, davvero esorbitante, soprattutto in un periodo in cui si pensa che ormai sì le guerre ce ne sono poche, ce ne sono invece i conflitti sono ancora tanti. I conflitti sono tantissimi, io penso che molti di voi possano comprendere cosa sta succedendo in Yemen ma anche quello che sta succedendo in Siria, quello che è successo in Siria, ci sono tanti 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 conflitti di cui noi non sappiamo niente, che sono guerre civili, che sono comunque guerre e momenti che costringono come dicevamo anche prima la popolazione a spostarsi ma a spostarsi internamente molto spesso, non solo esternamente. Cosa appunto diciamo, se decidi ad esempio in Yemen, fa tantissimi progetti, dicevi poco fa, che tipo di progetti appunto vengono fatti in uno specifico magari in una zona come lo Yemen? Beh allora sicuramente come ti dicevo ci sono tante cause indirette che possono colpire la popolazione rispetto a un conflitto e allora tutto quello che riguarda la protezione, la nutrizione e la sanità e l'educazione anche, non scordiamoci che ad oggi probabilmente 4 anni di conflitto ci sono dei bambini che hanno conosciuto solo il conflitto, non hanno conosciuto altro, come in Siria ci sono dei bambini che sono nati in un campo profughi e non sanno, non conoscono altro e quindi se il The Children sviluppa dei progetti, che comunque anche portava avanti prima ma che continua a portare avanti in maniera molto diciamo in emergenza appunto che riguardano la nutrizione per esempio, allora io ti posso dire che in questi 4 anni circa 3.500 persone hanno ricevuto assistenza di cibo, proprio siamo riusciti a portare del cibo e poi ci sono tanti programmi di contrasto alla malnutrizione acuta, tanti bambini che arrivano in stato di malnutrizione e questi programmi fanno in modo che sicuramente riuscire a rispondere all'emergenza sulla malnutrizione acuta, certo poi la sfida è quella di mantenerli nutriti e non farli ricadere in situazioni di malnutrizione, questo è totalmente legato a quello che si fa per l'igiene e la salute, abbiamo parlato di colera, di un'epidemia di colera che è una delle più devastanti, già nel 2017 c'era stata un'altra epidemia, ma questa per velocità, per come si sta velocemente propagando sembra peggiore di quella e la cosa che più si fa rabbia è che il colera è facilmente prevenibile, basta avere acqua potabile e condizioni igienico-sanitarie accettabili e questo è quello che ci diceva proprio il nostro direttore di Save the Children in Yemen, questa è la rabbia e quindi quello che comunque stiamo facendo è da una parte fornire kit igienici, abbiamo raggiunto circa 60 mila famiglie e dall'altra però siccome non è indispensabile solo agire in emergenza, abbiamo raggiunto anche circa 40 mila persone con delle azioni di sensibilizzazione su quello che effettivamente può portare una buona igiene, ovviamente buone pratiche con quello che si ha, c'è sempre qualcosa che si può fare, rimanendo nel contesto. E poi ci sono tanti programmi di protezione, voi immaginatevi rispetto a una guerra, protezione da sfruttamento, abuso, problematiche sui bambini soldato e quindi Save the Children costruisce quelli che noi chiamiamo dei child friendly spaces, sono delle tende semplicemente all'interno delle quali però è un ambiente proprio a misura di bambini, noi cerchiamo di convogliarli là, di non lasciarli per strada, a volte i genitori giustamente hanno bisogno di capire come vivere, come pensare alla casa se è stata bombardata o no, se i parenti sono vivi o no, tutte quelle problematiche che sembrano banali ma che in una situazione per tutti noi sono molto importanti e allora in questi spazi ci sono psicologi, educatori, un contesto a misura di bambino che li possa sia proteggere dal resto del mondo e sia ovviamente cercare di farli passare il trauma della guerra. Tutto questo ha fatto con gli professionisti che voi avete diciamo in tutti i luoghi in cui Save the Children mondo, diciamo poi è reclinato poi il Save the Children in Italia opera. Save the Children in Italia in realtà sullo Yemen ha un lente di candimento abbastanza puntata perché proprio in Italia in realtà abbiamo un'altra di questi primati che ci ostiniamo ad avere negativi, no o meglio abbiamo un'azienda che produce armi che vengono poi vendute alla coalizione saudita. Save the Children si è mossa un po' per insomma cercare di fermare questa cosa. Esatto, è sempre importante poter fare qualcosa ovviamente nei paesi dove accadono le cose e cercare là di portare uno sviluppo concreto o rispondere a un'emergenza. Dall'altra parte la forza di un'organizzazione come Save the Children ma anche grazie a tante persone ovviamente che ci sostengono è quella di fare delle azioni di pressione. Allora noi quest'anno proprio in maniera specifica ci siamo concentrati sul tematica della bambini in contesti di guerra e quello che stiamo facendo come pressione per cercare di cambiare un po' le cose è abbiamo lanciato una petizione, una petizione per chiedere lo stop alle esportazioni di armi alla coalizione saudita dall'Italia. Esiste una fabbrica che è in Sardegna che produce armi che vengono vendute e utilizzate per la guerra in Yemen. Allora noi siamo appunto al Ministero degli Esteri che stiamo chiedendo. Cosa che dovrebbe essere appunto, cioè la legge italiana viete in realtà, no? Esattamente. Però come al solito sappiamo che nel multinazionale si trova sempre poi il canale per poter fare un po' quello che si vuole, verrebbe da dire, non solo in questo campo, in molti altri campi anche, però dovete far mosso questa petizione per chiedere questa sospensione. Sì, al Ministero degli Affari Esteri abbiamo chiesto appunto a tante persone di firmare questa petizione, chiunque la può trovare sul nostro sito, sulla home page www.seildeciderm.it e lì si può appunto far sentire la propria voce per poter poi insomma parlare non a nome di un'organizzazione seppur autorevole ma a nome delle tante persone che fanno in modo che quell'organizzazione possa operare. Tu dicevi sei una coordinatrice diciamo dei volontari su Milano immagino anche... Sì sì, su tutta Italia e su Milano assolutamente. E la cosa interessante è che proprio Milano, se il Presidente ha dei progetti. Sì. Quindi come dicevi è importante andare a aiutare anche nei paesi e ma insomma i bambini anche qui, ahimè, ci sono bambini che vivono... Ogni contesto al suo... Situazioni di conflitto bellico ma magari altri tipi di conflitti o comunque di situazioni per cui è bene riuscire a intervenire e aiutarli. Che tipo di operazioni fatte su Milano? Su Milano abbiamo dei progetti di contrasto alla dispersione scolastica e di supporto a quella che noi chiamiamo povertà educativa. Abbiamo dei centri, un centro educativo, quelli che noi peraltro chiamiamo anche punti luce e operiamo nei quartieri, non solo a Milano ma in tutta Italia, nei quartieri periferici. A Milano in particolare siamo in Quartogiaro e in zona Certosa e lì con i ragazzi del quartiere cerchiamo appunto di sviluppare da una parte le proprie capacità, le loro ambizioni e di anche lì supportarli nella percezione di una socialità anche diversa da quella che forse se abbandonati o se non seguiti potrebbero sviluppare. È importante, è importante perché ci sono numerose sacche di povertà in Italia come ovviamente anche a Milano e questo rischia di innescare un circuito vizioso poi di poca tutela dell'infanzia e dell'adolescenza. I volontari che noi qui incominciano ad entrare un po' più in gioco in questo tipo di situazione, cosa bisogna avere per essere un volontario di Save the Children? Per essere volontari di Save the Children a me piace dire questo, sicuramente bisogna avere passione ovviamente per la causa, cioè capire l'importanza della difesa e della promozione dei diritti dei bambini, essere esempi anche nella propria vita al di là di Save the Children, di proattività e di umanità anche e soprattutto avere del tempo libero da poter impiegare in un'azione sociale, da voler impiegare in un'azione sociale. Ognuno di noi ha ovviamente tante cose nella vita, tante cose da fare, ha anche delle professionalità, ma non è detto che i volontari di Save the Children possono impiegare quel tempo libero che decidono di dedicare o a attività che sono strettamente legate con i nostri progetti e quindi cercare di operare con il nostro staff sul campo, a quarto giaro, incertosa, oppure aiutarci in azioni di sensibilizzazione e raccolta fondi, questo dipende sia dalla predisposizione personale e sia dal tempo che si può impiegare. Sicuramente operare a stretto contatto con i minori significa avere un grado di responsabilità relazionale e anche una predisposizione relazionale. Poi io credo che comunque avrete poi voi anche delle operazioni di formazione, immagino? Assolutamente, assolutamente, la formazione è la base proprio del tempo donato per noi in entrambi i casi, non si sta mai soli ad operare ovviamente perché c'è sempre lo staff specializzato che porta avanti i progetti, il supporto del volontariato è complementare. Non mi mandano in zone belliche? No, non solo, non ci sono programmi di volontariato all'estero in generale. Quindi non neanche la gente viaggia? Ogni tanto qualcuno ci prova, fanno fare i viaggi in Africa, no, non è. Sicuramente sono esperienze formative, assolutamente, ma è sicuro che una settimana a quattro giorni credo che sia ben formativa, mi immagino, molto molto interessante infatti. Quindi diciamo, chiunque può incinarsi all'importante appunto che capisca l'obiettivo finale. E lo faccia con serietà e voglia di esserci e voglia di fare assolutamente chiunque e anzi, come dico sempre, è veramente vitale perché la passione che portano dei volontari è… I volontari è un momento più o meno. Guarda, in Italia più o meno contiamo un 2200 volontari che a vario titolo, con varie azioni supportano l'organizzazione, dalla sensibilizzazione nelle scuole, alla raccolta fondi, a laboratori artistici o educativi all'interno dei nostri progetti o anche in un aiutandoci a volte in maniera più spot, in maniera più saltuaria, anche nella ristrutturazione di alcuni spazi, nella volontà di essere esempio, come sempre, civile per la propria comunità. Prossima settimana, per farti un esempio, i volontari di Verona in questo caso andranno a… Verona in questi giorni è interessante. Esatto, però anche lì ci sono esempi di proattività e umanità, andranno a riqualificare, piccole riqualificazioni in un parco della città, è un parco per i bambini, quindi la causa è sui bambini. Noi l'anno scorso abbiamo lanciato una campagna, quella che ci vede protagonisti come Campagna Italia, ed è la campagna proprio per tutelare e mettere la luce sulla situazione dell'infanzia in Italia. In quel caso noi in qualche modo denunciavamo il fatto di non avere spazi, che ci sono degli spazi pubblici che devono essere aperti all'infanzia e che possono essere aperti all'infanzia. Allora loro su questa campagna hanno deciso di essere proattivi nella propria città e quindi dare un esempio e andare a riqualificare uno spazio, ma questo è solo un esempio di quello che comunque abbiamo fatto e faremo anche a Milano e in tante zone d'Italia. Milano è un dato interessante perché insomma, molte le leggi che ormai operano sul territorio nazionale, che prima operavano magari in zone del terzo mondo, zone dei paesi in via di sviluppo, hanno riscontrato comunque una certa affinità con certe problematiche anche nelle città, soprattutto nelle città come Milano. È un problema che va a aumentare, quindi oppure prima facciamo finta di non vederlo e adesso il frenamento lo vediamo e interveniamo, oppure invece sta aumentando il divario? Beh, sicuramente la situazione economica ha fatto in modo, in qualche modo, che ci fossero dei riflettori perché il divario si stava e si sta espandendo. Organizzazioni come Safe Deciders oppure internazionali non potevano chiudere gli occhi rispetto al proprio paese, al paese dove opera e quindi mi viene da dire è necessario studiare alcuni fenomeni, studiarli in maniera locale anche, la dispersione scolastica a Napoli esiste, è diversa dalla dispersione scolastica a Milano che esiste ugualmente e quindi in qualche modo poter attivare sacche di buone pratiche, in qualche modo. Diamo le coordinate per i volontari che volessero avvicinarsi a Save the Children, come poter fare? Fate delle giornate informative? Basta andare sul sito? Come funziona? Allora, basta andare sul sito e là troverete delle informazioni, sicuramente potete scrivere una mail, un indirizzo mail che è molto semplice perché è nome.cognome e da lì si entra in un iter di comunicazione ovviamente e sia informativo che formativo, cioè verrete informati su tutto quello che è il volontariato nella vostra regione, nella propria regione e formativo perché ogni volta che viene fatta un'azione dalla più semplice alla più complessa, comunque il livello formativo di base bisogna averlo per poter operare in coscienza. Perfetto, Feli che siamo arrivati alla fine della nostra chiacchierata, io davvero sono molto contento di quello che state facendo, soprattutto questi progetti su Milano che fanno capire davvero l'importanza di non chiudere mai gli occhi di fronte a quello che succede sotto casa, che magari a volte facciamo fatica a vedere, ma insomma è importante intervenire e insomma riuscire a risolvere in quello che si può appunto delle piccole problematiche. E' interessante il lavoro che fate comunque anche a livello internazionale perché appunto fa capire come in realtà insomma dire casa mia, casa tua, casa di quell'altro in fondo è sempre molto, è sempre più riduttivo, cioè questi confini ormai non esistono più e il mondo davvero diventa un'unica grande pangea che torna a essere come una volta. Secondo me l'importante è capire che ognuno di noi può fare qualcosa, da una parte o dall'altra, lo può fare in Italia, lo può fare all'estero e che insieme ad un intervento di un'organizzazione ci può essere una mobilitazione di persone, questo è importante. Mobilitazione di persone, insomma abbiamo visto due venerdì fa i giovani scendere in Milano che non vedeva giovani in piazza qui credo da almeno 30 anni, qualcosa del genere e quindi insomma c'è speranza, infatti c'è speranza, insomma queste nuove generazioni che spesso volentieri si etichettiamo come poco volenterose o a sue fatte dietro a uno sbaffo, invece ci hanno stupito positivamente e chissà che forse questo cambiamento arrivi da loro e saremo ben contenti di raccontarlo. Grazie mille Federica, grazie a te, grazie a tutti. Grazie mille Federica Trestorio di Save the Children, nella nostra diretta trovate tutti i link al sito di Save the Children, tag, comunque potete scrivere anche a noi, vi metteremo in contatto con Federica per tutto quello che riguarda il volontariato, ne abbiamo detto non serve essere ingegneri, non serve essere dottori, non serve avere volontà, serietà e voglia di fare. Assolutamente è così. Grazie mille davvero Federica per essere con noi oggi. Grazie a te. Grazie anche a tutti voi che ci avete seguito, l'appuntamento torna come sempre domani alle 12.30 in diretta qui su Milano News. Oggi pomeriggio puntata speciale di Good Morning Milano perché si parla di arte, nel pomeriggio troverete online la nostra puntata speciale su Damars e su un artista che davvero vi invito a continuare a guardare il nostro canale. Grazie mille, arrivederci, a presto. Grazie a tutti. Grazie a tutti.